Cos'è la papillomatosi? La papillomatosi è una condizione che causa la formazione di molteplici papillomi sulla pelle o nelle membrane del corpo. I papillomi sono crescite simili alle verruche. Questi tumori benigni si formano in diverse aree del corpo e possono danneggiare l'apparato respiratorio. Anche se la papillomatosi è non cancerosa, può causare seri problemi e può richiedere un trattamento medico. I medici ritengono che la papillomatosi sia causata da un'infezione virale diffusa attraverso il contatto con la pelle. Questa malattia può colpire persone di tutte le età e non è limitata a nessun particolare demografico. Anche se è più comune negli esseri umani, gli animali possono anche sviluppare questo virus. Negli animali, gli scienziati ritengono che la malattia sia trasmessa da altri animali e insetti infetti. Generalmente appare più nei cani e nel bestiame può essere prevenuto con vaccinazioni precoci. Esistono diversi tipi di papillomatosi. La papillomatosi respiratoria ricorrente, nota anche come papillomatosi laringea, si verifica quando il virus cresce nell'area respiratoria. I tumori spesso si manifestano sulle corde vocali, sulla trachea e sui polmoni. Mentre questa malattia è rara, se non trattata, i pazienti possono avere problemi con la loro casella vocale e respirazione alterata. Questa è una forma aggressiva di papillomatosi e può ripresentarsi anche dopo che i medici hanno rimosso le crescite. La papillomatosi può anche svilupparsi nel seno. Quando ciò accade, gli individui spesso hanno lesioni singole o multiple nei dotti mammari e nei tessuti. Poiché alcuni tumori virali nel seno sono stati associati al cancro, i medici raccomandano esami per eventuali grumi o lesioni anormali. Se il medico trova cellule sospette o se i tumori sono dolorosi, il paziente potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere i tumori. Poiché la chirurgia è di solito l'ultima risorsa, i medici usano spesso altri metodi per tentare di gestire queste screscenze. I farmaci sono spesso il primo passo nel tentativo di liberarsi dei tumori benigni. La terapia immunitaria è anche un altro piano di trattamento comune, in particolare per i pazienti che presentano recidive. In generale, l'esito dei pazienti con il virus del papilloma è favorevole e gli scienziati ritengono che anche la prevenzione possa essere d'aiuto. Poiché alcune forme di questo virus sono altamente contagiose e ammettono gli individui a un rischio più elevato di cancro, i medici hanno sviluppato diversi vaccini che potrebbero prevenire certi aspetti della malattia. Mentre la vaccinazione si dimostra utile, le persone interessate a ottenerla potrebbero voler controllare con il proprio medico prima di assicurarsi che soddisfino i criteri per la vaccinazione.